Credo che sia l'unica, neanche mio padre ha questo potere, non riesco a dire di no a Maria quindi è l'unico tassello dove potrebbe succedere di tutto potrei fare qualsiasi cosa per lei, quindi questo è pericoloso ho un debore proprio, ti dico, ma l'ho detto in famiglia nessuno ha il potere su di me che c'ha Maria Grazie